Le piazzole di sosta lungo la strada provinciale 430 da Sapri ad Agropoli continuano ad essere invase dai rifiuti, uno spettacolo indecoroso causato da incivili che buttano l'imbondizia lungo la strada sicuri dell'impunità. A mettere in risalto tale situazione il presidente di Lega Ambienti Agropoli Stella Maris, Mario Salsano. Registriamo ad oggi solo l'impegno del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano Ialburni e di alcune amministrazioni locali che sono intervenute per la pulizia dei tratti di strada nei loro territori, mentre invece Anas e provincia di Salerno brillano per la loro inazione, tanto che molte piazzole di sosta stanno diventando microdiscariche. È un problema che si pone da molti anni e a cui però non è stato trovato un rimedio efficace. È importante garantire la bonifica e la pulizia delle piazzole di sosta non solo perché non è un biglietto da visita onorivole per l'intero territorio del parco, conosciuto invece per le sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche, ma anche per le microdiscariche che generano fenomeni di emulazione, dando così inizio a una spirale di degrado urbano e sociale. Per affrontare la problematica della cilentana in modo radicale, Legambiente Agropoli fa sapere che si ritiene indispensabile istituire a cura della prefettura di Salerno un coordinamento tra Parco Nazionale del Cilento, amministrazioni locali, Anas, provincia di Salerno, forze dell'ordine, per adottare tutte le misure necessarie a garantire pulizia e decoro lungo l'arteria anche installando telecamere nelle aree di di Sosta. Grazie.